L'ASREM è stata condannata a risarcire un medico, oggi in pensione, con oltre 100.000 euro. Il dirigente medico, in servizio presso l'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, aveva accumulato ferie non godute per oltre 92.000 euro, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2020. Il suo non è un caso isolato, ma dovuto a ragioni di servizio, che gli hanno impedito di prendersi una posa dal lavoro. Il medico, infatti, doveva garantire la sua presenza in ospedale. L'ASREM non ha compensato l'accumulo di ferie non godute con un'indenità sostitutiva, fino alla sentenza favorevole emessa dal giudice del lavoro il 20 aprile scorso. Il giudice ha riconosciuto al dirigente medico, ora in pensione, 92.000 euro, con interessi e rivalutazione per circa 12.000 euro aggiuntivi. Il medico, tramite il suo avvocato, Laura Storto, aveva presentato ricorso contro l'azienda sanitaria molisana, che ora è stata condannata.